salve a tutti qui divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video nell'arco delle ultime settimane sono state condivise alcune novità riguardo al nuovo film di jurassic world film di cui appunto non sappiamo ancora il titolo ma vi ricordo che sappiamo più o meno la data d'uscita luglio 2025 quindi tra un annetto in questo video andremo a fare un po un recap di queste novità come sempre cercando di mantenere bene i piedi per terra anche se l'hype e la curiosità sono sempre molto alte prima di iniziare come di consueto vi invito a seguirmi sui social basta cercare lorenzo divus su instagram e tiktok faccio un'altra premessa visto che me l'avete chiesto in tantissimi sotto i video no non ho visto jurassic world the chaos theory la teoria del caos insomma la serie animata di netflix perché in questo momento non ho voglia di prodotti animati non ho voglia di dinosauri animati non ho voglia di quel tipo di narrazione in riferimento a jurassic park cerco qualcosa di un po più adulto so che è più matura rispetto al camp cretaceus però veramente in questo momento non ho lo spirito giusto quindi magari andrei anche ad essere ipercritico quindi forse la guarderò in futuro serie animate a parte veniamo al film che è la cosa che mi interessa indubbiamente di più nel contesto di jurassic world cosa sappiamo sappiamo che oltre a scarlett joansson che ormai è confermata come protagonista femminile si aggiunge un altro attore di alto calibro ossia maher sala ali un attore che abbiamo visto di recente in film anche di grande successo un attore molto talentuoso molto anche apprezzato per il modo in cui affronta i personaggi che gli vengono affidati un attore che a me piace molto molto bravo chi segue l'mcu sa che era coinvolto anche in blade di quel film si sa pochissimo di recente l'abbiamo visto anche nel film il mondo dietro di te di netflix è un attore molto bravo molto capace che si sa immedesimare ripeto molto bene è un attore di alto profilo quindi anche abbastanza ormai riconoscibile e riconosciuto dal grande pubblico non ai livelli di scarlett joansson però è un attore famoso sono anche stati svelati altri membri del cast attori un po meno famosi ma comunque abituati a produzioni importanti in alcuni siti compaiono anche i nomi dei personaggi che andrebbero ad interpretare come sempre sono da prendere con le pinze per esempio la joansson dovrebbe interpretare un personaggio dal cognome est europeo direi che ce l'hai già abituata quindi il ruolo non è casuale battute a parte sicuramente da queste scelte di cast emerge una informazione un dato di fatto cruciale questo film non va da spese per citare john hammond il cast di questo nuovo jurassic world sta venendo plasmato per essere un cast di alto livello forse di livello più alto rispetto anche ai jurassic world nel senso chris pratt si era famoso bryce dallas award era famosa ma insomma scarlett joansson myers alali forse sono anche più famosi rispetto a quanto non lo fossero appunto chris pratt e bryce dallas award quando è uscito il primo jurassic world questo cosa significa significa che mi aspetto un film appunto ad alto budget perché non avrebbe senso assumere degli attori noti che si fanno anche pagare per questa loro notorietà giustamente per poi fare un film appunto a budget contenuto o ristretto tutti i segnali quindi ci vanno a indicare che universal sta investendo parecchio su questo nuovo jurassic world e che non sarà un film tanto per fare un film sui dinosauri perché vende sempre ma penso che stiano cercando di mettere assieme un qualcosa che possa sfondare al botteghino non dimentichiamoci del coinvolgimento di david coep come sceneggiatore e di edwards gareth edwards come regista insomma i nomi che stanno mettendo assieme sono ottimi a livello di regia a livello di cast insomma a tutto tondo sembra un film che viene pensato per essere importante per essere impattante l'unica cosa che mi lascia ancora un po diciamo titubante è il fatto che appunto dovrebbe uscire l'anno prossimo quindi significa che dovranno girarlo nei prossimi mesi rapidamente nel senso senza perdere tempo senza avere eventuali stop andare in post produzione altrettanto velocemente per poi farlo uscire appunto in un anno spero che questa ristrettezza di tempi che si sono dati salvo dei rinvii che comunque sarebbero comprensibili non vada a penalizzare il comparto tecnico il comparto della computer grafica delle animazioni della cgi sappiamo benissimo come di recente molti film anche ad alto budget hanno avuto problemi con la parte degli effetti speciali e in jurassic world non puoi permetterti di avere dei brutti effetti speciali perché i dinosauri e tutto quello che li riguarda prende vita proprio grazie a un mix di effetti speciali e di animatronics per carità gli ultimi film di jurassic world non erano male secondo me dal punto di vista degli effetti speciali se la sono sempre cavata bene anche dominion i primi film e i primi film e soprattutto jurassic park hanno letteralmente impressionato tutti all'epoca e sono ancora impressionanti nonostante siano passati 30 anni quindi insomma è un aspetto importante per la saga quello degli effetti speciali mi viene anche da dire però cavoli stanno spendendo dei bei soldi per avere un cast di primo piano sicuramente li spenderanno anche nel comparto della computer grafica e degli effetti speciali sono anche circolati online dei presunti copioni dei presunti diciamo abbozzi di trama c'è chi parla di una spedizione che rimane bloccata su un'isola con due squadre addirittura con due gruppi ecco più che squadre bloccati sull'isola che poi si trovano a collaborare il cast è molto numeroso quindi può essere che effettivamente ci siano due gruppi perché se andate appunto a cercare la lista di attori coinvolti è abbastanza lunga per farvi un esempio di un altro film dove c'è qualcuno bloccato sull'isola mi sembra molto più lungo il cast rispetto a quello di jurassic park 3 jurassic park il mondo perduto rimanevano sempre bloccati su isla sorna però lì c'era tutta la spedizione della ingen quindi ci stava che lì il cast fosse lunghissimo qui non lo so se ci sarà magari sempre una squadra mandata da una compagnia allora lì il cast potrebbe diventare numeroso perché magari ha bisogno di 10 15 comparse tra virgolette ma di che isola si potrebbe trattare visto che si parla di una presunta isola ripeto sono voci non sono confermate però discutiamone che isola potrebbe essere ripeto il pensiero correrebbe subito a sorna più che a nublar sappiamo che nublar dopo il regno distrutto è appunto distrutta visto che il monte sibola ampiamente ricoperta di lava cenere e via discorrendo nublar ce la siamo tolta dall'equazione sempre che questo nuovo film non sia ambientato dopo jurassic park ma credo che andranno avanti con la storia però questo è da vedere comunque se nublar la consideriamo esclusa l'opzione più probabile e secondo me anche più affascinante è che questa fantomatica isola di questo fantomatico copione sia isla sorna si sa io ho un debole per sorna per quello che rappresenta per l'idea di un'isola letteralmente dei dinosauri dove non ci sono gabbie recinti dove la mano dell'uomo non c'è come dice ammon dalla fine di il mondo perduto un'isola quindi dove si è creato un ecosistema di dinosauri le vicende di sorna sono un po complesse ci sono state varie menzioni nel contesto della lore di jurassic park trovate vari video qui sul canale dedicati proprio a sorna e diversi esemplari di dinosauri sono stati portati via da sorna condotti o al jurassic world di masrani o addirittura nella bios in valley della bios in appunto però qualcosa potrebbe ancora esserci poi sorna è un po una wild card nel senso una carta che tiri fuori e ci inventi qualcosa di nuovo perché ha sempre avuto una storia molto misteriosa poi ragazzi non stupiamoci se magari vanno a cambiare qualcosina di quello che non è stato mostrato nei film questa è una cosa che succede anche nel monsterverse dobbiamo ragionare così sul canone di queste saghe ciò che succede nei film è al primo posto è il canone diciamo da cui non si scappa poi magari ci sono i prodotti collaterali come l'animazione come una serie tv che sono comunque canonici e quindi hanno un peso ma dove già magari puoi cominciare a giocare un po con il canone poi sotto ci sono tutti quei prodotti come fumetti informazioni sui siti libri se dovessero esserci che sono canonici ma vengono sotto appunto a livello di importanza rispetto a film e serie tv e quindi li puoi veramente maneggiarli un po se ti serve cambiare un qualcosa perché a livello di trama a livello di nuove pellicole ti serve puoi mandare nel dimenticatoio la canonicità di un evento di un libro di un fumetto è più facile meno gente conosce queste cose non sono i film e quindi ripeto ti viene più congeniale ora tirando un po le somme molto bene le scelte di cast molto bene maersala lì molto bene questa volontà di coinvolgere profili di primo piano per questo film riguardo questa possibile trama di qualcuno bloccato su un'isola ripeto sono voci non ci sono conferme non ci sono fonti attendibili prendiamola così per quello che è però insomma sarebbe una trama da jurassic world e da jurassic park qualcuno bloccato su un'isola di dinosauri quindi va bene potrebbe anche starci ad ogni modo signori fatemi sapere cosa ne pensate di queste ultime informazioni come sempre vi terrò aggiornati qualora dovessero uscire informazioni serie ancora più interessanti ancora più importanti speriamo che ne escano sempre di più aspettiamo poi magari qualche immagine poi ci sarà il momento del trailer e lì sarà tutto da commentare vi ringrazio per l'attenzione se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale perché non attivate la campanella se volete supportare le mie creazioni potete farlo sulla funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su youtube in alternativa paypal e tp link in descrizione vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti